Questo essere che duemila anni fa ha promesso che sarebbe tornato e che non è venuto per istituire una religione. La religione si è istituita nel 300 d.C. con Costantino, ma prima i cristiani erano gruppi di persone che studiavano la scienza dello spirito e si incontravano nelle case. Dopo è divenuta un'istituzione e Gesù non era un prete, Gesù era figlio di un carpentiere di nome Giuseppe e guarda caso è stato ucciso dai preti di allora. Quindi diciamo che ci hanno un po' mischiato le carte e dobbiamo rimettere ogni carta nel suo giusto mazzo perché ci hanno confuso. Quindi questo essere che è venuto a portarci non una religione ma a insegnarci un aspetto della scienza dello spirito nella forma in cui duemila anni fa poteva essere compresa. Ma Cristo è un maestro, insegna una materia scientifica, non è uno che insegna a fare le genuflessioni. Queste sono cose che sono venute dopo. Cristo dice se vuoi parlare con Dio chiuditi nella tua stanzetta, non dice di andare nel tempio. In relazione alla preghiera dice non fate come quelli là che gli piace pregare in pubblico per farsi notare. Voi dite poche parole perché Dio sa già quello di cui avete bisogno. Purtroppo qual è il problema? E l'ha detto prima Roberto, che noi pratichiamo una religione per sentito dire e le scritture non le conosciamo. Quindi qualsiasi fesseria ci venga raccontata, parte che ce ne frega più di tanto perché la religione ormai è diventata solo tradizione, ma ha perso la sua connotazione di scienza. Ma in realtà la scienza dello spirito è la scienza più nobile. Perché è la scienza più nobile? Perché ci fa capire come funzioniamo noi? Perché la nostra vita a livello di umanità è tutta un incidente? Perché siamo un pazzo che se comprato l'automobile non sa guidare e si mette in strada senza conoscere il codice della strada. Fai un incidente continuo. Siamo l'unico elettrodomestico che esce senza il libretto delle istruzioni.